ciao ciao alberto piacere sarò il tuo video è pronto mattia non ero un siccarico ok di dove sei? me l'hai messo in un occhio di dove è santa sofia? qui verso la campigna è sperduto nei monti qua intorno ok ok e con chi sei qua? con chi sei qua? bravo bravo e dopo gli facciamo vedere il video ok hai scelto di saltare perché? come tutti quelli che vedi qui intorno via vado a prepararmi e ci vediamo dopo in aereo ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501